Sono una guardia di grande pregio per l'intera comunità scientifica nazionale e internazionale, ma se posso scolidare soprattutto per l'entusiasmo percepibile del primo dei ricercatori che in gran numero abbiamo potuto incontrare e salutare. Ed è proprio nella sede dei suoi centri di ricerca che il bambino Gesù ha deciso di festeggiare i suoi 150 anni. Alla celebrazione dell'anniversario del primo ospedale pediatrico d'Italia hanno partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parodin. Presenti anche la Sindaca di Roma Virginia Raggio e il Presidente della Regione Nicola Zingaretti. Sono stato molto contento nel sentire il grande apprezzamento che questo ospedale di scuola, veramente è stato un coro generale. La Presidente Marielle Enoch guarda al futuro e a come risolvere le criticità. Pensate che sono i bambini in vista d'attesa per i trapianti di Medulla ci sono 30 bambini e noi purtroppo non li abbiamo letti.